ben ritrovati di nuovo su reviewing you prima di iniziare questa video recensione vi invito se non l'avete ancora fatto ad iscrivervi al canale telegram cercando offertoni oppure su instagram offertoni siamo molto attivi ultimamente su instagram pubblichiamo codici sconto offerte di prodotti amazon.it e prossimamente faremo anche un giveaway il prodotto che ciò qui davanti tratta di alcune testine di ricambio per l'esattezza 4 per gli spazzolini philips sony care ma è compatibile anche con altri spazzolini come la diamant clean easy clean flex care lp white e kit spazzola maniglie no questo non c'entra niente sto comunque leggendo sulla pagina amazon del produttore quindi compatibile con diversi spazzolini io c'ho quello philips sony care avevo già recensito delle altre testine di ricambio di un'altra azienda mi ero trovato bene però stavolta ho voluto cambiare senso white già sentita in televisione quindi magari un minimo di qualità in più andiamo a vederle un attimo da vicino allora qua la scritta in tedesco sul retro inglese e tedesco facile da installare vabbè come vedete qua vado a zoomare un attimo occorre semplicemente rimuoverla e inserirla e appunto dice che si deve cambiare ciascuna ogni tre mesi sì no sì esattamente ogni tre mesi come c'è scritto ho detto giusto vado ad aprire al volo la confezione giusto per vedere se la qualità è quella che trapela dalla confezione ogni testina è dotata di una di un copri setole di plastica dura quindi ottimo e come vedete c'è la gomma alla base che si può rimuovere come le testine originali della philips che devo dire purtroppo sono veramente costose costano veramente tanto un po come le stampanti che magari le trovate a un prezzo basso però le cartucce costano una barca di soldi anche la setola devo dire che non è troppo plasticosa dalla morbida e come vedete la forma quella che va a coprire tutto i denti diciamo quando si va a lavare il dente quindi secondo me sono dei prodotti delle testine valide non della marca philips ma comunque molto validi come l'originale e devo dire che se volete fare un confronto potete andare a vedere anche l'altro video recensione sulle altre testine poi decidere voi quale comprare vi dico soltanto che ad oggi 17 settembre giorno in cui sto registrando il video sono al prezzo di 5 euro 80 al posto di 9 80 quindi scontate se avete prime ne arriva anche in un giorno di spedizione se la recensione vi è piaciuta fatemelo sapere qui sotto se avete domande non esitate a farmene